Enrico per rubare un termine un po' del calcio quest'estate hai avuto un po' di mal di pancia però alla fine si è risolto tutto bene. Sì, sì, per fortuna alla fine sono restato, ho preso questa scelta negli ultimi giorni e penso che sia la scelta giusta restare qui ancora un altro anno insomma si vedrà dopo cosa decideremo con le società però sono felice di restare qua e vedremo come andrà la stagione. Parecchie facce nuove anche in spogliatoio, così di primo acchito cosa ti sembra? Mi sembra che siano tutti ragazzi molto simpatici, solari, con cui si può parlare, stare insieme sul ghiaccio non ho ancora avuto l'opportunità di vederli tutti quanti perché siamo appena tornati dalla nazionale quindi scopriremo a strada facendo quali sono le loro potenzialità ma credo che la società abbia preso dei buoni stranieri. La difesa Enrico sembra un po' corta, sei consapevole che quest'anno ci saranno tanti minuti sul ghiaccio? Certamente sì, perché con solo due stranieri ci sarà di più da fare però sono anche felice allo stesso momento perché giocare il più possibile è il mio obiettivo ogni anno è giocare sempre di più. Buona stagione e in bocca al lupo. Grazie a Crapinuto. Grazie a Crapinuto.